Quest'anno abbiamo voluto proseguire nell'utilizzo di slogan, abbiamo usato due anni fa spezia folle amore, l'anno scorso abbiamo usato uno slogan che ha portato tra l'altro anche a record di abbonamenti con tutti al picco. Quest'anno utilizziamo lo slogan che abbiamo già utilizzato nella fase finale del campionato, noi ci siamo, e poi dal punto di vista dell'immagine questa sarà l'immagine che accompagnerà la campagna abbonamenti a difesa di una fede da 110 anni. Perché quest'anno, come sapete, tutti ricorrono i 110 anni dal famoso 1906, anno di fondazione dello spezia calcio. E ai 110 anni abbiamo voluto dedicare simbolicamente anche una misura che abbiamo ritenuto di adottare per quanto riguarda proprio l'aspetto della campagna abbonamenti, cioè il prezzo dell'abbonamento della zona sicuramente più calda e storica del tifo, e cioè dell'angurla. Abbiamo adottato una politica come società che è quella di mantenere, credo dando un segnale importante, gli stessi prezzi dell'anno scorso. Anzi, abbiamo, come ho appena detto, per quanto riguarda la curva, ritenuto simbolicamente di abbassare il prezzo dell'abbonamento dai 120 euro dell'anno scorso ai 110, che sono gli anni di storia di questa gloria della società. Quindi un abbonamento in curva costerà 110 euro, l'abbonamento ai distinti costerà 260 euro, l'abbonamento per la tribuna costerà 430 euro. Abbiamo voluto dare un'indicazione di che cosa significa partita tutto questo, cioè per quanto riguarda la curva significa poco più di 5 euro a partita, 12 euro a partita per i distinti e 20 euro a partita per quanto riguarda la tribuna. Se fate due conti rispetto a quello che è il prezzo di vendita ordinaria del biglietto, praticamente con gli abbonamenti significa risparmiare quasi il 50%, cioè un abbonamento consente di vedere a metà prezzo praticamente il campionato rispetto a quelli che sono i prezzi praticati normalmente dei singoli biglietti.